Sulla piazza di Palazzo, su altezza serenissima, il principe Alberto II di Monaco ha presenziato la cerimonia di consegna di un minibus che servirà il Centre Hospitalier Princesse Grasse e la casa di riposo a Chietudine a seconda delle necessità. Il minibus è stato benedetto da Padre Georges. Abbiamo chiesto al Presidente dell'Ordine San Lazzaro di Gerusalemme, Jean-Pierre Campanat, come sia nata questa iniziativa. Nel rispetto della tradizione dell'Ordine, che è molto anziano perché risale al Medioevo, agli anni 1200, a Gerusalemme, la nostra tradizione è sempre stata di occuparci dei malati all'origine dei leprosi e oggi ovviamente dei malati delle persone più debole, più anziane. E quindi abbiamo avuto un contatto con il S.P.G. di Monaco e ci hanno segnalato che avrebbero bisogno di un minibus modulabile, cioè che possa servire per le persone valide e per le persone che sono su sedia a rotelle. E questo è il secondo minibus che regaliamo al S.P.G. E' un veicolo molto particolare, con nove posti. Si possono trasportare o nove persone valide o una valida, sete non valide, eccetera. Si può modulare assolutamente il veicolo per rispondere al bisogno del S.P.G., specialmente dell'acchiettude. S.P.G. 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 S.P.G.